Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi, nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram e vi ricordo che sono attivo anche su Facebook. Vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Se torniamo con la mente a quando avevamo 12 anni, ci rivediamo con pensieri spensierati nella testa e con in mano dei giocattoli. Ma non è così per tutti i bambini, perché alcuni sono già capaci di impugnare un'arma e di concepire i più orribili piani. Ci troviamo in Belize, un piccolo paese situato sulla costa orientale dell'America centrale. Qui, a Belize City, il 21 dicembre 1979, nasce Sharon Louise Carr. Vive con la madre e ha tre fratelli, mentre il padre biologico non è mai stato presente per lei. È un alcolizzato e quando si ubriaca diventa offensivo e violento. La famiglia Carr deve fronteggiare diversi problemi economici, vive in una zona molto povera, ma poi si trasferisce a Camberley. Una cittadina nella contea del Surrey, in Inghilterra. È il 1986 e Sharon ha sette anni. Il motivo principale di questo grande cambiamento è che la madre di Sharon ha iniziato una relazione con un uomo inglese, quindi vuole avvicinarsi a lui. Dunque, ora, i figli della donna hanno un patrigno e subito dopo il trasloco tutto procede bene per la famiglia. Sharon si adatta velocemente a questa nuova vita, va bene a scuola, viene coinvolta in diverse attività didattiche e sportive, in particolare le piace giocare a basket. È una bambina molto educata nei confronti degli altri insegnanti, che la descrivono come un'allieva adorabile, sempre disponibile. Col tempo, però, il suo carattere cambia drasticamente. Sharon diventa piuttosto aggressiva e non le ci vuole molto per manifestare questi scatti d'ira. Inizia a comportarsi male anche a scuola, se la prende con i compagni, dimostrandosi violenta nei loro confronti. Il motivo principale di questo drastico cambiamento risiede, come spesso accade ai bambini, nelle problematiche a cui Sharon assiste nell'ambiente domestico. Infatti, anche sua madre si arrabbia facilmente ed è fisicamente violenta nei confronti, sia dei suoi figli che del patrigno di Sharon. In un'occasione, durante una lite, il compagno manifesta l'intenzione di lasciarla, allora lei si infuria al punto che gli versa del grasso bollente su tutto il corpo. Vuole farlo soffrire e ci riesce perché l'uomo riporta delle ostioni terribili, molto dolorose. È costretto a recarsi in ospedale, mentre la mamma di Sharon viene arrestata e accusata di aggressione. Ma un altro aspetto terrificante di questo episodio è che il patrigno di Sharon, mentre la sua compagna gli versava addosso il grasso bollente, aveva posato lo sguardo sulla bambina, che però, a soli dieci anni, esibiva un'espressione sul viso particolarmente calma. Sharon osservava sua madre che maltrattava brutalmente quest'uomo, ma non manifestava alcuna reazione. Non gridava, non piangeva, non era per niente agitata, come se percepire questo livello estremo di violenza non le importasse affatto, quando, normalmente, avrebbe traumatizzato sia un bambino che un adulto. La verità è che ormai, per Sharon, questi attacchi violenti sono diventati la norma. Per lei è rutina assistere agli aggressivi scoppi di ira di sua madre, dunque adesso non batte più ciglio. Cresce senza conoscere modi più pacati di rapportarsi agli altri e, all'età di undici anni, sperimenta già diverse sostanze. Poi, oltre a essere mannesca con i suoi compagni di scuola, si accanisce anche contro gli animali. Li tortura e uccide perché si diverte a farlo, gode nell'infliggere dolore a degli esseri indifesi. Sono molti eplici gli animali domestici del suo quartiere che spariscono improvvisamente e alcuni di loro vengono ritrovati senza vita, ma si nota chiaramente che non sono morti a causa di un incidente. Vi parlo di uno dei cani dei vicini di casa di Sharon, che è stato ammazzato orribilmente. Vi avviso, se siete sensibili all'argomento, saltate questa parte e andate al minutaggio che vi faccio comparire sullo schermo. Nello specifico, il cane di questo vicino viene dicapitato con una vanga e si ritiene che la colpevole sia proprio Sharon. Lei prova piacere anche nel torturare i gatti e, in un paio di occasioni, frigge dei criceti vivi. Sharon va a caccia di animali domestici da rapire e uccidere. Anche se non verrà mai dimostrato ufficialmente che è lei la colpevole, nella zona tutti sono convinti che sia Sharon a macchiarsi di questi crimini raccapriccianti. Sharon sta coltivando una pessima reputazione nel sobborgo di Old Dean, in cui vive. Tutti gli abitanti sanno che non è una bambina con cui si può scherzare, perché è sempre pronta a reagire in modo rabbioso e violento. I suoi vicini sono terrorizzati da lei, anche gli adulti hanno paura di questa bambina. E questo ci suggerisce quanto sia terrificante il suo atteggiamento. Non solo minacce e maltratti i suoi compagni di scuola, ma si spinge a portare in classe delle armi, come coltelli e altri oggetti appuntiti. Fortunatamente questi suoi comportamenti vengono segnalati dagli insegnanti e nel 1990 il preside della scuola chiede supporto ai servizi sociali. Si sospetta che il modo in cui Sharon si comporta a scuola abbia a che fare con l'ambiente familiare e turbolento in cui vive. A seguito di questa chiamata, i servizi sociali allontanano quindi Sharon e la danno in affidamento, ma solo per un mese. Poi, inspiegabilmente, la ragazzina torna a vivere con sua madre. Chi mi segue sa che nell'ultimo periodo ho trattato diversi casi in cui si verificano queste negligenze. I bambini che vivono in contesti critici vengono allontanati dai servizi sociali, ma rimandati presto a casa. Oppure, nei casi peggiori, gli assistenti sociali non intervengono nemmeno e i bimbi che avrebbero dovuto proteggere sono morti. Dunque, anche in questo caso viene commesso un grave errore. Mi chiedo come si possa arrivare alla conclusione che la casa di Sharon fosse un ambiente adatto e sicuro per la crescita di una bambina. Infatti, una volta tornata lì, Sharon riprende la sua vita di sempre, continua ad avere una pessima reputazione, a subire gli sfoghi violenti di sua madre, a minacciare i compagni di scuola e a intimorire i vicini di casa, convinti che lei stia ancora torturando e uccidendo gli animali domestici della zona. Nell'estate del 1992, quando Sharon ha 12 anni, il suo temperamento violento si intensifica. Sembra che ormai sia annoiata. Non le basta più fare la prepotente, maltrattare altri giovani studenti e avventarsi contro gli animali. Vuole compiere un passo avanti nel buio, e sperimentare qualcosa che mai ha fatto prima. Commettere il crimine più atroce. Sì, la 12enne vuole consumare un omicidio ai danni di un essere umano. È la sera del 6 giugno 1992, quando la 18enne, Katie Radcliffe, si trova in una discoteca a Camberley, in compagnia di un'amica. Ma, prima di entrare nei dettagli, lasciate che vi racconti chi è Katie. Come detto, ha 18 anni. I suoi genitori si chiamano Joseph e Helen, e ha una sorella di nome Joanne. La famiglia Radcliffe vive a Horley, un'altra cittadina della contea del Surrey. Katie viene descritta da coloro che la conoscono come una ragazza gentile e vivace. È molto popolare, circondata da tanti amici, e sta vivendo un periodo emozionante della sua vita, perché ha appena finito la scuola e iniziato a lavorare. Fa l'apprendista parrucchiere in un salone, un lavoro che le piace moltissimo. Ama imparare a fare nuove acconciature, ed è pronta a implementare le sue capacità. I suoi colleghi l'adorano. Il suo capo afferma che Katie sta già sbocciando in questa professione, che davanti a sé ha una carriera promettente. Purtroppo, devo dirvi che non solo la sua carriera, ma tutto il suo futuro le verrà strappato via brutalmente, perché Katie sarà assassinata proprio quella notte, nel 1992. Torniamo quindi al 6 giugno. Katie ha deciso di uscire con la sua amica, perché, anche se il lavoro procede bene, si sente un pochino giù, dato che il suo ragazzo l'ha lasciata. Katie è triste e arrabbiata, così lei e la sua amica stanno passando una serata fuori, nel tentativo di distrarsi un po'. Trascorrono delle ore piacevoli nella discoteca Ragamuffin di Camberley. Poi, quando il locale chiude, Katie torna verso casa. Siamo oramai al 7 giugno. La ragazza sta camminando da sola, è presumibile che abbia salutato la sua amica all'esterno della discoteca, e che poi ognuna abbia preso la propria strada. Così, nel cuore della notte, Katie si imbatte nella dodicenne Sharon. Adesso vi racconto cosa la polizia ha teorizzato sia avvenuto, perché non si sa cosa sia successo esattamente. Alcune fonti riportano che Sharon, nonostante fosse una ragazzina di 12 anni, frequentasse abitualmente la discoteca Ragamuffin, riuscendo a entrare perché è sempre munita di un documento falso. In questo caso, quella sera, sia Sharon che Katie avevano passato la serata nello stesso locale. Secondo la ricostruzione della polizia, ore più tardi Sharon si trovava a bordo di un'auto insieme a due uomini, le cui identità non sono note. Guidavano per Camberley, con Sharon che era armata di coltello. Lei aveva notato la diciottenne Katie Radcliffe mentre camminava da sola lungo la strada per tornare a casa. Per Sharon, Katie era una persona completamente sconosciuta, ciò nonostante aveva deciso di attaccarla e ucciderla soltanto per soddisfare la propria sete omicida. Si ipotizza che il trio avesse accostato l'auto accanto a Katie e che l'avesse convinta o costretta a salire in macchina. Il risultato purtroppo non cambia. Katie quella notte non torna a casa e non viene più vista in vita. Il suo cadavere viene trovato più tardi, quella mattina circa 5 ore dopo l'aggressione e l'omicidio. È riverso sul ciglio della strada a Framborg, un centro abitato a circa 3 miglia di distanza dal luogo in cui la diciottenne è scomparsa, a Camberley. A individuare il suo corpo è stato un gruppo di ragazzi che ha chiamato la polizia. Il modo in cui Katie è stata uccisa è orrendo. La sua assassina voleva che lei soffrisse enormemente nei suoi ultimi istanti di vita. Presenta numerose ferite da taglio su tutto il corpo, almeno 27. È mezza nuda e i vestiti che ancora la coprono sono intrisi di sangue. Katie è stata accoltellata al petto, alla testa, sui genitali e alcuni colpi sono davvero feroci, inflitti con così tanta forza che le hanno attraversato tutto il corpo. Infatti il cadavere riporta ferite di entrata e di uscita nei punti in cui l'arma era affondata completamente. Il coltello le aveva perforato le costole e il cuore. Il patologo stabilisce che alcune di queste ferite le sono state inflitte post-mortem, quindi Sharon si era accanita persino sul corpo senza vita di Katie, continuando a colpirla. Si tratta di un omicidio efferato commesso con frenesia. Dopo la scoperta del corpo di Katie e la conseguente identificazione, la sua famiglia viene informata della tragica notizia e le indagini iniziano immediatamente. Bisogna rintracciare l'assassino, il mostro che ha ucciso la teenager in modo così brutale. I genitori di Katie e sua sorella Joanne partecipano a una conferenza stampa in cui supplicano gli spettatori di aiutarli a trovare l'omicida. Chiedono a chiunque sappia qualcosa di farsi avanti. La polizia intanto sta esaminando diverse piste e dialoga con coloro che erano presenti nella discoteca Regga Muffin, la stessa notte in cui Katie era lì. Si stanno attivando al massimo nella ricerca del colpevole. Il problema è che sono convinti sia un uomo, non una donna, e di certo non una ragazzina. Secondo gli investigatori, le prove raccolte indicherebbero che l'assassino sia un maschio adulto, che il delitto abbia avuto un movente sessuale, poiché Katie era stata trovata seminuda e con i genitari mutilati. Credo che la loro ipotesi sia plausibile, considerate le ferite e le condizioni della vittima. Nessuno, almeno in un primo momento, avrebbe mai sospettato che una dodicenne potesse essere la responsabile di un omicidio così efferato. Quindi la polizia sta esaminando e interrogando soltanto uomini. Crea anche un identikit che corrisponderebbe a un ragazzo avvistato nel club quella notte o nei pressi della zona in cui Katie era stata individuata l'ultima volta. I detectivi intendono rintracciarlo, ma in realtà non riusciranno a collegare concretamente nessun uomo all'omicidio della diciottenne. Col tempo, purtroppo, il caso di Katie Radcliffe si raffredda e Sharon Carr, almeno per ora, riesce a farla franca sfuggendo alla giustizia a soli 12 anni. Sharon però descrive il crimine commesso nella sua agendina. Spiega come ha ucciso Katie Radcliffe, menzionando soltanto le iniziali della vittima, ed esprime quali sensazioni questo omicidio le fa provare. Vi leggo alcune annotazioni riportate nei mesi e negli anni successivi alla morte di Katie, perché Sharon ancora non verrà catturata. In una pagina scrive Mi è piaciuto pugnalarla, mi ha fatto sentire potente. In un'altra pagina invece scrive Sono un'assassina, uccidere è affar mio e gli affari vanno bene. Ancora Oh cavolo, mi piace il rum rosso e voglio ubriacarmi. Inoltre, Ieri sera mi è venuto in mente che ucciderla mi ha fatto bene. Ora so di cosa sono capace e lo farò ancora. In un altro diario Sharon afferma Sono nata per essere un'assassina. Uccidere per me è come prendere un eccitante e mi fa venire voglia di non smettere più. Ogni notte vedo il diavolo nei miei sogni. A volte anche riflesso nello specchio, ma mi rendo conto che sono solo io. Queste che vi ho letto sono soltanto alcune note, ma ce ne sono tante di più perché Sharon ha scritto a lungo riguardo all'omicidio di Katie. Sulla sua agenda disegna anche un coltello, la stessa arma con cui Katie è stata uccisa. Insomma, queste scritture ci mostrano chiaramente lo stato d'animo di Sharon dopo il crimine ed è chiaro che non prova alcun senso di colpa, rimorso o disgusto per ciò che ha fatto. Anzi, Sharon era euforica durante l'uccisione di Katie perché l'ha fatta sentire potente, così potente da voler colpire ancora. Desidera ammazzare qualcun altro per provare di nuovo quella sensazione di dominio, quella scanica di adrenalina che l'omicidio di Katie le ha trasmesso. E siccome la polizia sta ancora cercando esclusivamente un uomo, Sharon si sente libera di prendere di mira qualcun altro. Infatti è quello che fa due anni dopo il delitto della diciottenne. Proprio il 7 giugno 1994, in occasione del secondo anniversario dell'assassinio di Katie, Sharon decide di tornare in azione. Sono certa che questo tempismo non è una coincidenza, ma soddisfa il desiderio di Sharon di celebrare la ricorrenza con un altro evento criminale. A questo punto Sharon ha 14 anni e sta frequentando la scuola Collingwood, un istituto indipendente di Wellington, nel Surrey. Durante gli ultimi giorni di scuola, Sharon incontra nel bagno delle ragazze una studentessa di 13 anni di nome Anne-Marie Clifford. Sharon chiede ad Anne-Marie se può entrare nel bagno con lei, per aiutarla a cercare una moneta da una sterlina che avrebbe perso. E Anne-Marie ha troppa paura di Sharon per rifiutare. Come vi ho già detto, Sharon è prepotente con i compagni e le compagne di scuola, li spinge, li prende a calci, li minaccia. È una ragazza violenta, per cui la maggior parte degli studenti è terrorizzata da lei. Anne-Marie accetta mai volentieri di aiutare Sharon a cercare i soldi. Teme di essere aggredita in quel bagno, ed è esattamente ciò che succede. Appena Anne-Marie entra nella toilette, Sharon estrae un coltello che ha portato con sé a scuola. Si sposta dietro di lei e glielo affonda nella schiena. Le infligge una coltellata così profonda da perforarle un polmone. Anne-Marie crolla a terra e guarda disorientata Sharon, in piedi sopra di lei. La vede addirittura sorridere mentre stringe tra le mani il coltello intriso di sangue. E quel ghigno si fa ancora più grande. Chiaramente fare del male procura Sharon piacere. Fortunatamente prima che Sharon possa colpire di nuovo Anne-Marie, un gruppo di ragazze entra in bagno, si rende conto dell'accaduto e allerta immediatamente gli insegnanti. I servizi di emergenza vengono chiamati e intervengono immediatamente. Anne-Marie viene portata in ospedale e, sono felice di dirvi, che sopravvive all'aggressione di Sharon. È stata molto, molto fortunata. Se i soccorsi non fossero stati chiamati in tempo, sarebbe morta, perché la ferita era davvero molto profonda. I dottori, quindi, riescono a salvarla e, alla fine, Anne-Marie si riprende del tutto, almeno fisicamente. Non posso, infatti, immaginare quanto grave debba essere il trauma che ha accusato la sua mente. Quanto tempo le ci vorrà per superare lo shock dell'assalto di Sharon. In un documentario, la ragazzina racconta di aver avuto per tanto tempo degli incubi terribili su ciò che le era successo. Al punto che suo padre si era spostato nella sua camera da letto durante la notte, perché lei aveva il terrore di restare da sola. Inconsciamente temeva che Sharon Carr tornasse da lei per tentare di nuovo di ucciderla, riuscendoci questa volta. Intanto, Sharon, dopo che la polizia è arrivata sulla scena del crimine, è stata arrestata e portata in un centro di valutazione psicologica. Una volta lì, Sharon tenta di strangolare due infermiere, quindi viene accusata sia dell'aggressione ai danni di Anne-Marie, sia di questi due ulteriori capi d'accusa di lesioni personali. Alla fine del 1994 viene condannata. Le viene ordinato di scontare due anni in un istituto giovanile nell'Essex, la H.M. Prison Bullwood Hall. Durante la permanenza in questa struttura, però, Sharon non riesce a tenere la bocca chiusa riguardo all'omicidio di Kathy Ratcliffe. Avvenuta due anni prima, nel 1992. Come sappiamo di questo crimine, Sharon non è stata nemmeno sospettata. Si tratta di un caso ancora irrisolto, ma non lo rimarrà per molto tempo. Sharon, infatti, inizia a vantarsi del delitto di Kathy con diverse persone. Lo racconta al telefono ad amici e parenti, ne parla con altre detenute lì presenti e, addirittura, con lo staff dell'istituto, nello specifico. Lo rivela a un agente penitenziario e a un agente di sorveglianza. Per Sharon, aver ammazzato una ragazza innocente è qualcosa di cui essere orgogliosa, non da tenere nascosto. Vuole che le persone sappiano che è un'assassina. Desidera che la gente la temi. Infatti, continua ad aggiornare il suo diario e l'agenda scrivendo dell'omicidio. Nel 1996, mentre si trova ancora nell'istituto, scrive... Le infilzo il coltello nel petto. I suoi occhi si stanno chiudendo. Mi sta implorando, quindi la colpisco ancora e ancora. Non vorrei ferirla, ma devo sopraffarla con la violenza. Ho bisogno di levarmi al di sopra della sua bellezza, della sua serenità, della sua sicurezza. Osservo il suo viso quando è moribonda. So che sente che la sua vita scorre lentamente, che sta per finire. La sento sussultare. Immagino che stia cercando di respirare. L'aria si ferma nella parte posteriore della sua gola. So che, per tutta la sua vita, ha respirato. Ma ora non può più riuscirci. E sono felice. A causa della sua lingua lunga, il personale dell'istituto contatta la polizia. Così gli investigatori incontrano Sharon e la interrogano. Anche davanti a loro lei non nega, anzi confessa apertamente di essere lei l'assassina di Katie Ratcliffe. La polizia intuisce che lei sta dicendo la verità. Che non sta fornendo una falsa confessione. Perché Sharon è in grado di rivelare alcuni dettagli sull'omicidio che non sono mai stati resi pubblici. Soltanto l'assassino di Katie può conoscerli. Ad esempio, Sharon racconta dove l'aveva pugnalata esattamente. Confessa inoltre alla polizia che dopo la morte di Katie aveva rubato il suo braccialetto. Che effettivamente non è mai stato ritrovato. Anche l'informazione sul braccialetto non era stata rilasciata dalla polizia. Quindi è certo che la 14enne è l'efferata assassina. Che gli agenti stanno cercando da più di due anni. Con sbigottimento scoprono che non si tratta di un uomo adulto. E a dimostrarlo non è soltanto la confessione di Sharon. Infatti avviano le indagini per confermare la versione della ragazzina. Ispezionano i suoi oggetti personali per trovare delle prove. Perquisiscono la sua casa a Camberley. Dove viveva con la famiglia prima di essere arrestata. E individuano tutti i suoi vecchi diari. Dove aveva scritto nel dettaglio l'omicidio di Katie. E quanto le fosse piaciuto ammazzarla. La polizia non ha dubbi. Sharon è l'autrice del reato. In quelle pagine affiorano tutti i dettagli che la ragazzina ha già fornito alla polizia. E altri che corrispondono con l'omicidio di Katie. Sharon dunque viene interrogata a lungo e numerose volte. Sebbene risultino delle piccole incongruenze nella sua storia. In ogni versione fornita alla polizia ha ammesso di aver accoltellato Katie ripetutamente. Racconta inoltre di quei due uomini con cui sarebbe stata in macchina quella notte. Quando avevano braccato Katie. E fornisce alla polizia i loro nomi. Che, come detto, non sono noti al pubblico. Sharon però afferma che questi due uomini avevano avuto rapporti intimi con Katie. Mentre lei era costretta sul sedile posteriore dell'auto. Prima che venisse accoltellata e uccisa. I due soggetti in questione vengono quindi arrestati e interrogati. Ma entrambi negano. Fornendosi un'alibi a vicenda. Affermano che non si trovavano affatto con Sharon Carr quella notte. La polizia continua comunque a indagare su di loro. Cerca di trovare delle prove che li colleghino al crimine. Ma senza successo. Non emergono prove solide e concrete che possano implicarli. Di conseguenza non vengono accusati ma rilasciati. Tuttavia, secondo alcune fonti. L'opinione pubblica crede ancora oggi che i due uomini avessero mentito. Perché erano davvero coinvolti nella guato a Katie. Non si ritiene però che fossero necessariamente colpevoli dell'omicidio. Perché probabilmente l'unica da accoltellare Katie era stata Sharon. E non è nemmeno chiaro dove Sharon avesse ucciso Katie. Se in macchina o in un'altra zona remota prima di portare il suo corpo senza vita a Framborg. Ma non dobbiamo dimenticare che Sharon all'epoca dei fatti aveva appena 12 anni. Mentre la vittima ne aveva 18. Quindi è considerata un'adulta. Insomma, sembra improbabile che una ragazzina delle scuole medie sia riuscita da sola a sopraffare una giovane donna. Possibile che l'avesse trascinata, immobilizzata e pugnalata senza l'aiuto di nemmeno una persona? Un'altra ragione per cui la gente crede ancora fermamente che quei due uomini fossero coinvolti nell'assalto è perché il corpo di Katie era stato trovato abbandonato sul ciglio di una strada a Framborg. Ma sappiamo che la vittima era scomparsa da Camberley, dove aveva lasciato la discoteca Ragamuffin. Quindi come avrebbe fatto Sharon a portare il cadavere di Katie da Camberley a Framborg da sola? Si era necessariamente avvalsa di una macchina per farlo, ma non poteva essere lei a guidarla, visto che aveva soltanto 12 anni. Ecco che, quindi, devono esserci stati altri complici ad aiutarla. Come detto, però, purtroppo la polizia non riesce a trovare delle prove incriminanti per inchiudare i due uomini al reato. Sono le prove contro Sharon che non mancano e nel maggio del 1996, poco meno di 4 anni dopo il delitto, Sharon viene accusata dell'omicidio di Katie Ratcliffe. Il 7 giugno 1996, a 4 anni esatti del crimine, Sharon scrive nel suo diario «Rispetto per Katie Ratcliffe» per 4 anni oggi. Dato che Sharon ha confessato, il caso si prospetterebbe come abbastanza chiaro. L'assassina ha ammesso i suoi reati, quindi tutti sono convinti che si dichiarerà colpevole. E invece, mentre è in custodia, Sharon ritratta la sua confessione. Afferma di non essere lei la responsabile. Probabilmente è il suo team legale che le ha suggerito questa mossa. Sharon afferma di aver detto di essere l'assassina soltanto perché, in quel momento della sua vita, era instabile mentalmente. E questo possiamo considerarlo vero, perché Sharon accusava notevoli disagi a livello di salute mentale. Dopo essere stata arrestata, era stata esaminata da medici e psichiatri, i quali avevano accertato che lei soffre del disturbo schizioaffettivo. Il disturbo schizioaffettivo è una condizione di salute mentale cronica che combina i sintomi della psicosi, come allucinazioni e deliri, con i segnali dei disturbi dell'umore, come la depressione. Inoltre, viene stabilito che Sharon è affetta anche da disturbi borderline e antisociali. Tuttavia, nonostante queste diagnosi e i tentativi di ritrattare la confessione, le prove indicano che Sharon è la colpevole, con lei che aveva ucciso Katie, quindi le accuse non vengono ritirate. Sharon Carr deve affrontare il processo che inizia nel 1997. La squadra di difesa cerca di persuadere la giuria a condannarla per omicidio colposo, per ragione di diminuzione di responsabilità legata ai disagi mentali dell'imputata, piuttosto che per omicidio di primo grado. L'accusa, al contrario, si augura che Sharon venga giudicata pienamente colpevole dell'omicidio e presenta alla giuria le confessioni che l'imputata aveva rilasciato alla polizia quando era stata arrestata per la prima volta. Vengono mostrate anche le note riportate sulla sua agenda, in cui Sharon parlava dettagliatamente dell'omicidio e di come ne aveva tratto piacere. Quando il processo si conclude, nel marzo del 1997, dopo 5 ore di deliberazione, la giuria torna con il verdetto. Concorda con l'accusa, dichiara quindi Sharon Carr colpevole dell'omicidio di Katie Radcliffe. È chiaro che l'imputata abbia gravi problemi di salute mentale, ma la giuria la ritiene responsabile delle sue azioni. Quando aveva aggredito la vittima, aveva il controllo di ciò che faceva. Ecco perché si esclude l'ipotesi dell'omicidio colposo. Sharon Carr è condannata a scontare soltanto 14 anni di prigione, per via della giovane età che aveva quando ha commesso l'omicidio. Il giudice però, dopo aver pronunciato la sentenza, raccomanda che Sharon Carr venga detenuta a tempo indeterminato, a causa del pericolo che rappresenta per il prossimo. In particolare, il giudice afferma «Si evince che avevi un movente sessuale per questo omicidio, sia dal modo brutale in cui hai mutilato il corpo di Katie, sia dalle agghiaccianti annotazioni presenti sul tuo diario. Quell'omicidio, come dici tu stessa, ti ha eccitata. Sei, a mio avviso, una giovane donna estremamente pericolosa». Sharon Carr, infatti, dopo la condanna, si aggiudica il titolo della più giovane assassina della Gran Bretagna. In verità, restando nell'ambito inglese, soltanto la criminale Mary Bell era più giovane di Sharon Carr al momento dei suoi reati. Difatti, aveva scarsi 11 anni quando ha ucciso due bambini nel 1968. Il motivo per cui Sharon Carr viene comunque considerata come la più giovane assassina della Gran Bretagna di sempre è perché Mary Bell era stata condannata per omicidio colposo. Dunque, in seguito alla sua condanna, Sharon Carr viene portata nella prigione di Holloway, a Londra. Successivamente, a causa del suo stato mentale critico, viene trasferita in diversi ospedali psichiatrici, fino ad arrivare al Broadmoor nel 1998. Anche durante la sua permanenza a Broadmoor, Sharon causa molti problemi, continuando a essere violenta nei confronti degli altri pazienti. Afferma di voler uccidere un detenuto in particolare, tagliandogli la gola. Aggredisce il personale, comincia a farsi del male da sola perché è convinta di non essere un'umana, bensì una lucertola. Addirittura, Sharon trova un fidanzato al Broadmoor Hospital, Robbie Lane, un detenuto che aveva ucciso la propria madre, picchiandola a morte e cavandole gli occhi dalle orbite. I media ne parlano nel 2001. La coppia decide anche di sposarsi, ma annulla il matrimonio quando entrambi i partner vengono a conoscenza dei reciproci crimini. Infatti, prima di mettersi insieme, Sharon e Robbie ignoravano le motivazioni per cui l'altro era finito in quell'ospedale psichiatrico. Una volta scoperte, tutti e due si tirano indietro, si disgustano a vicenda, pur essendo entrambi degli assassini. Un paio di anni dopo, nel 2004, Sharon cerca di fare appello contro la sua sentenza, nel tentativo di convertirla in omicidio colposo. Ma non ha successo. Poi, nel 2007, viene trasferita dall'ospedale di Broadmoor, che diventa una struttura predisposta ad accogliere soltanto gli uomini, a un'altra unità psichiatrica. Infine, nel 2015, Sharon viene trasferita nella prigione di Bronzefield, dove si trova tuttora. Sharon, oggi, ha circa 44 anni. Come avete notato, la sua condanna avrebbe dovuto concludersi tanti anni fa, ma lei è rimasta dietro le sbarre perché viene ancora considerata una persona molto, molto pericolosa. Ho letto che forse non verrà mai rilasciata, o comunque non a breve. È più probabile che trascorrerà il resto della sua vita in carcere. Il mio ultimo pensiero a conclusione di questo video non può che andare alla povera Katie e ai suoi cari. Non riesco a immaginare quanto sia stato doloroso, avvilente e inspiegabile per Katie affrontare una morte simile. E di certo anche per la sua famiglia è stato devastante e traumatizzante perderla in quel modo. Nessun omicidio ha mai un senso o una giustificazione, ma la morte della giovane Katie è avvenuta davvero casualmente, solo per soddisfare la smania omicida di un assassino a dodicenne. Ecco uno dei motivi per cui questo è un caso assurdo. Quando sono i bambini colpevoli e arrivano addirittura a commettere un omicidio, mi terrorizzano. Davvero. Mi chiedo come mai dei pensieri così spietati possano già insinuarsi nelle loro menti, dove trovino la spregiudicatezza di assecondare questo loro lato più oscuro. È spaventoso apprendere di una ragazzina di 12 anni capace di commettere un delitto così brutale. Del resto, questo caso, ha scioccato tutto il Regno Unito. Vicende del genere, con protagonisti degli assassini così giovani, sono estremamente rare. E quando Sharon è stata catturata, tutta l'Inghilterra ha esultato. Anche perché, se non fosse stata arrestata dopo l'aggressione ai danni della tredicenne Anne Marie, avrebbe sicuramente ucciso ancora. L'avrebbe attesa un sanguinario futuro da serial. E questo ci porta alla fine di questo caso. Io lo trovo assurdo. Ogni volta che sento parlare di assassini così giovani, non so, non riesco neanche a realizzare, a comprendere fino in fondo. Per me è molto, molto strano. Ma sono curiosa di sapere quali sono le vostre opinioni. O meglio, secondo voi, Sharon merita di stare in prigione per tutta la vita? Secondo me sì, assolutamente. Perché mostrare un'insensibilità è un... così alta, solo i 12 anni è grave. È chiaro che questa ragazzina non provasse empatia. Assolutamente. Come tutti i serial, tra l'altro. Inoltre, sono anche molto felice che la seconda vittima sia riuscita a salvarsi, insomma. Perché bastava davvero che passassero due minuti in più. E probabilmente Anne Marie sarebbe morta. Detto questo, fatemi sapere cosa ne pensate di questo caso. stiate liberi di scrivermi dei commenti qui sotto. Scrivetemi, insomma, cosa vi ha fatto provare questo caso, le emozioni che vi suscita. Io sono sempre molto curiosa di leggere i vostri commenti. Nel frattempo vi mando un bacione e noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti!